ma avete visto hitman grade su game pass invece da noi 100 euro noi di playstation abbiamo i soldi noi da noi sono le repubbliche popolari playstation attraverso le step 1 wake up early gone rise in the sun step 2 get some good some food in you step 3 e grow hard about what you want to be step 4 f*** everybody just do your thing